e anche per la quarta domenica di quaresima ritroviamo padre Ernesto della Corte, il nostro amico biblista. Bentrovato, buona Pasqua della settimana e quarta di quaresima. Buona Pasqua e oggi dobbiamo essere lieti. Io direi però Anna Maria, la tua suggestione mi ispira ad una cosa, manca poco alla Pasqua. Io direi invece che ricordi domenica scorsa la parabola del fico? A Dio è possibile rendere vivo un fico ormai morto, sterile, siamo noi. Oggi abbiamo due fichi sterili che sono i due figli della parabola, perché al centro di questo testo che ormai è diventato un manifesto di tutto il Vangelo, al centro c'è la figura del padre. Per cui noi continuiamo a dire il figlio misericordioso. Io direi il figlio affamato, il figlio che vuole tornare a casa per trovare pane, ma non è affatto convertito. E le due vicende, quello del figlio minore e quello del figlio che noi chiamiamo impropriamente maggiore, ma il testo greco lo chiama presbyteros, il presbitero, l'anziano, dovrebbe essere il figlio più saggio. Questi due figli con le loro mentalità si scontrano con l'originalità del comportamento e dello stile del padre, che fuori di metafora si capisce, è il padre con la lettera maiuscola. Luca ci descrive innanzitutto il modo in cui Dio si pone di fronte a questi due figli, che sono peccatori. Due figli di fronte a lui. In abedue casi c'è un netto contrasto. E l'attenzione oggi sul Vangelo deve essere sempre rivolta alla figura del padre. Un padre che non cessa di amare il figlio, che decide di allontanarsi dalla casa. Dalla casa va a finire dalle stelle alle stalle, va a finire addirittura in mezzo dei porci, una cosa intollerabile per un ebreo. I porci sono animali immonde. Un padre che continua ad attenderle. Non gli interessa nemmeno che il figlio abbia dissipato tutto il suo patrimonio. Ciò che lo ha dolore, come si vede in filigrana l'opera di Dio, cosa lo ha dolore? È che il figlio si sia messo di standa, che il figlio sia in difficoltà. Quella misericordia del padre lo aspetta continuamente. E quando il figlio decide di tornare, perché a casa del padre, anche l'ultimo dei servi ha il pane, il padre lo scorge da lontano, gli corre incontro, gli si getta al collo, lo bacia. Sono tutte azioni che esprimono la misericordia. Non c'è assolutamente contestazione. Bisogna dirlo questo. Fossimo stati noi avremmo detto, scape strada, hai visto che hai fatto? Te l'avevo detto, te l'avevo avvisato. No, non parla quando va via, non parla quando torna, non gli contesta nulla. C'è solo il tratto della commozione, di una gioia incontenibile. Un padre che non bada neppure alle parole del figlio, che parla in un modo dissennato, vuole dire trattami come uno dei servi. Non sono più degni di essere chiamato tuo figlio, dice delle bagianate. Il padre non bada a queste parole. L'importante è che questo figlio abbia ripreso la via di casa, che sia tornato. Ecco allora, il padre parla solo per i servi. Presto prendete il primo vestito, cioè la veste migliore, quella della festa. L'amore non toglie né indugi. Quel figlio deve tornare e riprendere quello che è sempre stato suo. Nulla è cambiato per il padre. Resta sempre figlio. Noi, fuori dalla metafora, anche nel peccato, non cessiamo di essere i figli di Dio. E come sempre, quella casa che indica la relazione forte col padre, quella relazione è stata introdotta da parte del figlio, ma non da parte del padre. Ed è bello vedere che questo è il volto del vero Dio che Gesù è venuto a rivelarci, proprio con l'accoglienza dei peccatori. Perché la parabola Gesù la dice, proprio per quei farisei e quegli scribi che si chiudono. Gli ascoltatori della parabola sapevano bene che un figlio effettivamente poteva chiederlo, ma non gli toccava di diritto chiedere l'eredità prima della morte. Il figlio giovane, tra l'altro, parte non perché ha bisogno di lavorare, il padre è ricco, ai campi, ai braccianti, è perché desidera una vita indipendente. Vuole stare in casa, gli pesa. A volte capita anche a noi che vediamo stretta questa comunione e in realtà passiamo dalla libertà, alla schiavitù. Per cui il ritorno a casa è motivato da quell'espressione, io qui muoio di fame, sta in mezzo ai porci, non può mangiare nemmeno le carrube che vengono date agli animali. E allora trova la giusta direzione. Non nel proposito di lavorare come un salariato per riparare il danno, ma nell'aver capito qualcosa di importante. Quella vita disordinata gli sta consumando tutto quello che ha dentro. Perché il peccato è disordine, il peccato è un fallimento, il peccato è un vuoto. E allora l'umiliazione di stare a pascolare i porci. E allora la decisione di tornare a casa rientra in se stesso. Non è ancora convertito. Sente che quell'amore del padre lo chiama. Ha il desiderio di tornare a casa. Comprende pian piano che quella casa non è una prigione, ma è un luogo di libertà. E il figlio compie un passo importante, anche se non è ancora la vera conversione. È una premessa. Diciamo che il figlio è persuaso di dover convincere il padre ad accoglierlo. Ecco perché si fa tutta una disposizione interiore. Ho peccato contro di te e contro il cielo. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Addirittura vuole dire trattami come uno dei tuoi salariati. Sono certamente parole e sentimenti che portano a galla anche una sincerità, un desiderio di far capire al padre di aver capito pian piano, di aver perso l'amore e di dover solo meritare. Perché questo è il problema. Il figlio crede di dover meritare l'amore del padre. Quel figlio ci somiglia. Tutti quanti noi pensiamo di avere dei diritti o di rivendicare un merito davanti al padre che è nei cieli. Assolutamente no. È il padre che non smette di amarci. E quando il figlio gli chiede perdone e comincia quella cantilena, il padre non lo lascia neppure parlare, lo blocca. L'amore precede il pentimento. L'amore precede la conversione. E questa è ancora la verità. Il padre è diverso da come il figlio immaginava. Qual è il vero ritorno? Capire la mentalità e lo stile del padre. Questa è la vera conversione. E allora la veste più bella, l'anello al dito, i calzari. Sono segni che lui è sempre stato figlio. Tra l'altro l'anello al dito era quello del sigillo. Oggi potrebbe essere il banco matto con il nuovo pin. Il padre gli riconsegna anche la tutela legale. Tutto gli riaffida. Il padre non l'ha mai tolto. E il racconto poi, ancora più bello, continuo con la figura del figlio del presbitero, come abbiamo detto, cioè del figlio maggiore, colui che dovrebbe essere l'uomo più saggio. Quando il minore è andato via il maggiore è rimasto dentro. Ora il minore è in casa, il maggiore è fuori. Lui si crede un figlio fedele. Quanto è fariseo in modo deteriore questo figlio. Invece di godere della gioia del padre, quando sente la musica e i suoni, chiede a un servo. Beh, è tornato tuo fratello. Tuo padre è contento e ha fatto uccidere il vitello grasso. Lui si sente giusto. Lui si sente esiliato dal padre. Dice che non ha mai avuto nulla da lui. Rifiuta di partecipare alla festa per il fratello. Quel fratello che era perduto e ritrovato. Ritiene questa un'igiustizia. E invece di avere una gioiosa accoglienza, di unirsi al padre, alla gioia di tutta la casa, non lo riconosce come fratello. E ancora una volta l'immagine di Caino che si perpetua. E parla dicendo tuo figlio. Non chiama nemmeno il padre per nome. Ecco, è la mala sensazione di chi si crede giusto. Di chi si crede che ha dei meriti davanti a Dio. E il padre, ancora una volta è al centro. Non si adira. Esce. Gli va incontro. Lo prega. Lo chiama con delicatezza. Figlio mio. Il padre ama tutti e due i figli. Ascolta le ragioni dell'uno e dell'altro. Ciò che è mio è tuo. Tu sei sempre con me. Ma tuo fratello era morto. È tornato in vita. Il padre vorrebbe riunire i due fratelli. Quei Caini e quegli abeli che ci sono ancora oggi. La fraternità è un dono. Il padre vuole che entrambi scoprano che in quella paternità c'è una fraternità. E poi cala il silenzio. Luca, come un grande regista, fa calare il silenzio. E la parabola esce dal testo e interpella noi. Ma noi abbiamo compreso lo stile di Dio che è padre. E la risposta ognuno di noi oggi dovrà darla. Certo, cercheremo di darla. Quello che dicevi, questa predisposizione in questa domenica ci aiuta e ci dà appunto la gioia per riflettere, per ripartire. Perché vedi, Anna Maria, noi siamo sempre pronti ad accendere le luci. Cosa faccio? C'è come l'ho fatto. Dio è contento di me. Ma tutto sommato c'è sempre un egoismo di fondo. Chi ama guarda l'altro. Io devo guardare a quel padre che nonostante tutto mi aspetta. La mia soluzione non è in me, ma è nel padre. È il padre che continua a chiamarmi. La mia forza è in lui. Tutto posso in colui che mi dà forza. Guardate come Luca è veramente il perfetto discepolo di Paolo. Questa è la verità. Tutto è dono, tutto è grazie. Noi siamo giustificati per fede, non perché abbiamo dei meriti. È la fede che accende in noi poi il giusto operare. Questa è la realtà della quaresima. E noi guardiamo Dio che è ricco di misericordia. Grazie padre Ernesto. Grazie anche per oggi. Buona Pasqua della settimana. Anche a te. Shalom. Shalom. Buona Pasqua della settimana. Grazie a tutti.